E' giallo ad Acate dove un uomo, un rumeno di 50 anni, è morto ieri sera nella divisione di medicina dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. L'uomo si è recato nel nosocomio e parino per difficoltà respiratorie ed è stato subito ricoverato per le cure del caso. Le sue condizioni sembrano peggiorare di ora in ora, fino al decesso avvenuto in serata. La prima diagnosi è stata quella di una broncopolmonite, ma non viene escluso che la sua sia stata una morte violenta. La procura ha aperto un fascicolo e l'APM di turno, Franco Riccio, ha deciso di far eseguire l'autopsia. L'uomo, prima di morire, avrebbe rilasciato delle dichiarazioni ai poliziotti di Vittoria, affermando di essere stato colpito da alcuni connazionali. Le indagini si concentreranno sulle sue ultime parole? L'autopsia servirà anche per capire se la causa della morte è legata alla patologia diagnosticato o al presunto pestaggio dichiarato dall'uomo. Grazie. 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 Grazie.